Massimo, l'ultima parola a te. No, io dico che la regione Sicilia è una regione a statuto speciale. Chi l'ha governata, l'ha governata malissimo, ma non in questi ultimi cinque anni, nel sempre, negli ultimi vent'anni. Questo è il problema, siccome si dicono tanto, dateci le autonomie, se questi sono i risultati di autonomie, questo paese non ne esce. È la classe politica che è stata lì che ha sbagliato tutto. Sono perfettamente d'accordo con Massimo Giletti, credo che le autonomie vadano malissimo, dovrebbe cancellare la regione a statuto speciale. Ha reso linea al TG.